Musica Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Siccome oggi è lunedì, mi hanno messo il wifi Quindi oggi posso farvi i video da oggi in poi Oggi, siccome non so che video portarvi Faremo tipo, boh, non so veramente cosa posso portarvi E niente ragazzi, se mi sentirete parlare così E' perché appunto, sto splodendo Mi fa male la gola e ho il raffreddore Quindi parlo da schifo Non so cosa portarvi Credo che Credo che Credo che vi porterò una reaction o qualcosa così Sto morendo Credo che vi porterò una reaction Quindi mi raccomando ragazzi, ditemi nei commenti Appunto che cosa volete Adesso pubblico questo video su YouTube In modo tale che voi Dai commenti possiate appunto scrivermi Cosa appunto volete Oppure Perché siccome YouTube magari ha qualche video I commenti me li attiva E ha un altro video I commenti me li disattiva No Andate sul video Granny più Hit Uguale Granny Hit Roba così si chiamava Control audio Che là i commenti sono attivati Quindi siccome là i commenti sono attivati Andatemi a scrivere là Appunto andatemi a scrivere là Cosa volete Appunto una reaction Maria del Filippo Maria del Filippo Sabato appunto non avevo il wifi Quindi non l'ho potuta fare Se no mi ero già organizzato Comunque dovete lasciare i 20 like Per la continuazione Quindi Perché non lasciate i 20 like Io non posso farvela È il dovere proprio da YouTuber Che bisogna appunto fare così Quindi per favore ragazzi Anche se tipo Sì ma tu Stai giocando in un gioco In quel video E non c'entra nulla Io capisco Perché so che in un video Ho detto Che mi vanno a scrivere Nei commenti In un video Dove i commenti sono attivati Io l'ho detto io Ma magari forse Riesco ad attivarli anche qua I commenti Speriamo ragazzi Oggi può venire giù comunque Nuovo video Nuovo challenge Quello che volete voi Perché Me lo dovete scrivere sotto Nei commenti Non sotto questo video Se i commenti Se i commenti sono disattivati Non sotto questo video Ma andate Al video appunto Della Granny Mi hit Contro di me Che ho giocato Quindi bella ragazzi Ah Potete scrivermi anche Un gameplay Tipo mi dicete Claudio Fai the twins Cioè i gemelli Quelli là Che siccome Mi stanno portando tutti Ehm Vabbè Scrivete voi Io mi installero il gioco Quello più povero Di nuovo Grazie.